Partono le primarie dei Verdi europei, è un momento storico, è il primo partito in Europa che lancia le primarie per candidare alla guida dell'Europa due persone, un uomo, una donna, due donne, perché noi Verdi siamo particolari ma siamo anche innovativi sul piano della proposta politica. Ecco, noi chiediamo a tutti, dai giovani, meno giovani, di partecipare a questo momento politico importante di partecipazione per cambiare l'Europa, ma cambiando l'Europa cambiamo la politica del nostro paese per portare più politiche sociali di integrazione, per portare la politica, l'integrazione dei popoli in Europa e portare la vera conversione ecologica dell'economia e di quello di cui ha veramente tanto bisogno l'Europa, la lotta alla povertà sociale che è imprescindibile da una grande conversione ecologica dell'economia nel nostro paese. Qui vicino a me c'è Monica Fassoni, di cui noi Verdi italiani, io come Presidente dei Verdi italiani, ho sostenuto la tagliatura affinché Monica potesse partecipare a queste primarie. Ecco, è un passaggio molto importante, siamo vicini a Monica e siamo convinti che Monica farà un grande risultato per dare anche un grande sostegno ai Verdi italiani in questa fase molto molto importante per il nostro paese. Penso, grazie Angelo, penso anche di dire che non riusciremo assolutamente a cambiare l'Europa se questa rimarrà nella testa delle persone e anche nella realtà una realtà di vertice, oppure un posto dove non si sa bene chi decide e cosa si decide e dove l'unico messaggio che arriva è quello dell'austelità e dei tagli. Penso però che noi riusciremo a superare e a cambiare questa politica soltanto con la gente, soltanto se riusciremo a convincere tanti uomini, tanti uomini e tante donne che è possibile cambiare l'Europa e soltanto possibile se loro parteciperanno. Queste primarie Verdi, per la scelta dei candidati per partecipare alla competizione su chi sarà il prossimo Presidente della Commissione, hanno proprio questo come obiettivo, quello di fare rendere conto alle persone che si può cambiare l'Europa ma soltanto se loro vorranno essere coinvolti. Si potrà votare da oggi, 10 novembre, fino al 28 gennaio online su greenprimary.eu e potranno votare tutte le persone, i simpatizzanti, i membri del Presidente dei Verdi europei a partire dai 16 anni. Non sarà necessario avere un passaporto europeo ma bisognerà avere sicuramente un cuore verde. Vi aspettiamo molto numerosi. Ciao!